Alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, la novità 2017 Miliès, curiosa iniziativa del concorso lanciato dagli amici di Miliès. Sì, è un piccolo concorso stima e vinci per stimare le persone che visitano tutti i presepi del borgo di Miliès. I presepi incominciano all'inizio, proprio dove c'è il cartello Miliès, e terminano qui in Valpiana, il presepio più alto del comune di Segusino. Arrivare qui e poi c'è una piccola cassetta dove ritirate un fogliettino dove vi viene chiesta la stima, secondo voi, di quante persone arrivano fino qui a Valpiana a visitare tutti i presepi. Scrivete il vostro numero, poi il numero di telefono in caso di vincita e la data, che è molto importante, perché a parità di vincita vince colui che ha dato la stima in precedenza. Dopo aver fatto la vostra stima c'è un'altra cassetta dove inserite la vostra stima e questo lo potete fare fino al 4 di febbraio. Dopo noi raccoglieremo tutte le stime da voi versate, le conteremo e vediamo colui che veramente ha dato il numero giusto oppure si è avvicinato di più. Le prime due persone entrambe vincono una cena per due persone in uno dei due locali, delle due trattorie, Osteria da Romolet e Antica Osteria da Chino, che devono essere consumati entro la fine di marzo. L'appuntamento è quindi a Migliesi di Segusino fino al 4 febbraio 2018, di alla scoperta dei presepi di Borghi di Segusino, il magico itinerario che porta a scoprire tutte le meraviglie di questo piccolo paesino a nord della provincia di Treviso. Grazie a tutti.